Allora, benvenuti, siamo alla sesta puntata del corso su Vircadia e come abbiamo visto le altre volte, oggi vediamo come strutturare e come realizzare degli avatar. Per farciò bisognerà usare dei prodotti, alcuni sono open source e altri un po' meno, ma sono sostanzialmente gratuiti e in questo modo si riesce a progettare degli avatar che possono entrare in Vircadia, ma non solo in Vircadia, ma anche eventualmente in altri mondi come OpenSIM o altre cose. Quindi il programma Principe per fare avatar, cioè per fare umanoidi, praticamente si chiama MakeHuman e su questo adesso tra poco do la parola a Maria Luisa e a Susanna che spiegheranno come si usa MakeHuman perché è un programma che in realtà stiamo usando da anni e che consente di creare delle statue o comunque dei manichini che vengono usati ampiamente per motivi didattici e per fare anche storytelling. Da MakeHuman si possono generare queste figure umane, si possono anche vestire come eventualmente vi accenneranno dopo e possono essere poi salvate in un formato che poi può essere animato, animato e questo lo si fa, però adesso un'altra procedura che vedremo brevemente che si chiama Mixamo, che permette di mettere delle animazioni o degli scheletri come si dice anche nella terminologia, quindi delle armature più in pratica più che ancora che scheletri e poi eventualmente c'è un passaggino su Blender che dovrebbe semplificare e ridurre i problemi legati alla perdita di texture e alle eventuali anomalie, quindi la procedura non è proprio banalissima ma non è neanche difficilissima, quindi basandosi anche su tutorial, su documenti PDF e sull'esperienza che abbiamo avuto negli ultimi anni, si riesce a fare ottime cose, quindi con dei risultati incredibili. Quindi io adesso darei la parola a Maria Luisa. Sì, mi sentite? Sì? Ok, salve a tutti. Allora, io farò una velocissima presentazione del software, perché poi lasciamo spazio alla parte operativa e quindi a Susanna e a Gianfranco, come ha già accennato Salazar, Necuma è un software free e anche open source. Esiste la versione per Windows, esiste la versione per Linux e da non molto anche quella per Mac, quindi multipiattaforma. È creato, è progettato per creare e modellare prototipi umanoidi in 3D, con la possibilità di renderli vicini alla realtà e chiaramente con dei limiti, perché non è un programma molto, cioè professionale, però permette di fare veramente tante cose. Ha un'interfaccia utente grafica e quindi si può agire abbastanza intuitivamente sul modello base che il programma fornisce. C'è anche una parte più complessa che permette di lavorare sui materiali e sulle texture, ma quella è già diciamo un passo un po' più avanti. Anche qua ci sono delle indicazioni da seguire poi rispetto a quello che si vuole fare con Make Human, di questo vi dico dopo. Un'altra cosa importante di Make Human è che c'è una community, una community che ha un sito, ha un gruppo Facebook, ha un forum, ha lo spazio FAC e tutto questo è compreso già dentro il programma, per cui se si va su community si trovano già gli accessi diretti al sito, al gruppo, eccetera. La community mette anche a disposizione tutta una serie di asset di svariato tipo, che vanno dai capelli alle shape, vestiti, cappelli, accessori, pelle, di tutto e di più. Molti di questi asset sono prodotti direttamente dagli utenti che poi li caricano sulla community. L'ultima cosa che vi dico, che poi metteremo in Classroom e anche nel sito Edu3DUR, tutti i vari materiali. Allora la registrazione della video lezione, il manuale che ho fatto però per la versione 1.1.0. Sto preparando per la versione 1.2.0, ma in sostanza le cose fondamentali sono quelle della versione 1.1.0. Vi metterò anche, vi metterò questo manuale appunto dentro la Classroom e nel sito. Metterò anche delle slide che avevo preparato per un corso, che introducono un po' a cosa ci si può fare con Make Human, ma un aspetto anche un po' didattico. C'è anche una parte sul passaggio da Make Human a Mixamo e poi a Sketchfab. Poi ci saranno anche i materiali che metterà Gianfranco Barbone, le varie schede, tutorial, i vari appunti che man mano emergono nel gruppo di Facebook. Io direi che come presentazione veloce veloce mi fermo qua e lascio la parola a Susanna che proprio parte da Make Human e vi mostra come modellare una figura umana. Susanna a te. Sì, sì, sto per iniziare. Mi sentite? Sì, sì. Buonasera a tutti. Allora io condividerò subito il mio schermo, così vedrete l'interfaccia di Make Human e vedremo anche come modellare un umanoide, giusto appunto. Ok. Un attimo. Devo aprire. Un attimo. Ok. Condividi. Vedete? Mi date un feedback per favore? Sì, sì, sì. Benissimo. Allora, su come scaricare il programma che è completamente gratuito, come diceva Maria Luisa, rimando al tutorial di Luisa che è fatto benissimo e che vi spiegherà passo passo come puoi avere il programma e come lanciarlo. Allora, io intanto vi mostro quello che vi appare nello schermo di default. Come potete vedere qua c'è un umanoide che non ha una precisa definizione né di genere né etnica. Allora, vedete qua ci sono una serie di pulsanti e qua una serie di cursori che mi permettono prima di modellare questo umanoide in modo macro e devo andare su questo pulsante che è principale e mi permette appunto di definire il sesso. Vedete, basterà semplicemente spostare questo cursore verso destra o verso sinistra per ottenere un umanoide che è maschio oppure femmina e ve lo faccio vedere immediatamente. Lo sposto verso destra e come potete osservare questo è un maschio. Lo sposto verso sinistra invece e ottengo un umanoide che è di sesso femminile. Vedete che è un oggetto 3D a tutti gli effetti. Ovviamente poi questi cursori, spostandoli, mi permettono anche di aumentare o diminuire l'età, anche di impostare la muscolatura, il peso, l'altezza e poi di definire anche il gruppo etnico. Vedete che ho il gruppo etnico africano, quello asiatico e quello caucasico. Proviamo un pochino a vedere, vedete che cambiano proprio i tratti del volto. Proviamo un pochino a spostare questo cursore e vedete che qua ho sicuramente una femmina africana. Allora, vedete un po', guardate un pochino dove io sto toccando con la freccetta. Cioè tutte le operazioni che io applico, tutte le operazioni che io faccio, vengono puntualmente registrate in questa parte in basso a sinistra dove io sto passando la freccetta. Vedete mi dice che è una donna di sesso femminile, è un prototipo di sesso femminile, ha 18 anni. Mi dice anche la percentuale di muscolatura, di peso e poi mi dice che altezza ha. E queste sono delle cose importanti quando poi dovrete importare il vostro umanoide. Allora, cosa posso fare poi? Guardate, vedete qua ci sono altri pulsanti. Allora, posso lavorare poi sulla modellazione più dettagliata. Vedete, toccando qui. Vedete qua c'è la principale e qua invece poi c'è una modellazione più dettagliata. che mi permette di definire meglio il sesso, di lavorare molto bene sui parametri del viso, poi vi farò vedere un po' come fare, di lavorare anche sul corpo, di lavorare poi sugli arti. Un'altra cosa interessante che ho su McHuman è la possibilità di vestire, vedete qua ho modelli aggiuntivi e qua troverò di default degli occhi. Posso scegliere se usare gli occhi high poly o low poly. Allora, io qua voglio fare una piccolissima parentesi. Dipende, cosa dovete fare con questo umanoide. Solitamente gli occhi high poly vanno molto bene se voi dovete esportare in open sim, perché se utilizzate invece quelli low poly, come vi spostate dal vostro umanoide che avrete esportato e rezzato in open sim, molto spesso vi appaiono delle orbite completamente vuote. Ancora, potete, vedete qua, trovare anche un'altra risorsa che sono i capelli, ce ne sono diversi, proviamo un po' a fare delle prove. Vedete, cliccate qua a destra e ne trovate svariati. Starà a voi poi scegliere insomma quello che corrisponde maggiormente al progetto che voi avete in mente. Vedete qua abbiamo diverse tipologie di denti, e poi io vi spiegherò anche come fare per arricchire il vostro archivio rispetto a, diciamo, quei denti che il programma mi dà di default. Ancora, vedete qua, abbiamo diverse topologie. Poi vedremo un pochino, guardate un pochino cosa succede. Vedete che questo umanoide diventa decisamente più muscoloso, per cui cambia proprio la struttura del suo corpo. Poi ancora, potete aggiungere delle sopracciglia. Io di solito, quando faccio i miei personaggi, utilizzo, se sono personaggi di sesso femminile, questo numero di sopracciglia, oppure quando sono maschi utilizzo queste qua. Insomma, mi sembrano abbastanza realistiche, però, ripeto, stare a voi, puoi scegliere quelle che vi piacciono di più. Vedete che cambia proprio il volto di questo personaggio. Poi potrete aggiungere anche delle ciglia, ce ne sono diverse, vedete. Anche in questo caso dipende che cosa dovete fare del vostro umanoide. E poi potete aggiungere anche una lingua. Allora, un'altra, diciamo, pulsante che offre delle risorse interessanti è questo relativo ai materiali. Questo mi permette di cambiare la skin, quindi di trovare una pelle che corrisponda rispetto al personaggio che ho in mente. Cioè, qua ce ne sono diverse, ma ovviamente io ho arricchito il mio archivio andando poi ad attingere alle risorse che trovo nella community. Ma anche questo è un passaggio che vi farò vedere. Proviamo un pochino, guardate un pochino come cambia questo personaggio. Proviamo a mettere questa, oppure ancora, questa è una skin molto adatta per un personaggio maschile. Ce ne sono altre, insomma. Andiamo un pochino a vedere. Ok, vediamo un po'. Eccola qui. Allora, posso ovviamente cambiare anche il colore degli occhi. Vedete qua il programma e trovate sempre i materiali alla vostra destra. Vedete, ci sono diverse iridi che mi permettono di cambiare il colore del mio umanoide. Vedete che cambia decisamente. Starà a voi, ripeto ancora una volta, trovare quello più adatto al personaggio che avete in mente di realizzare. Bene. Allora, un'altra cosa che posso fare è cambiare, appunto, la posa del mio personaggio. Devo cliccare su questo pulsante e qua posso aggiungere uno scheletro. Questa è un'opzione piuttosto interessante rispetto al, diciamo, a quello che è il, diciamo, il fil rouge di questa, diciamo, di queste lezioni. perché credo, Saldami conferma, in Vircadia occorra comunque importare un umanoide che è fornito di uno scheletro. Ma su questo ovviamente darà delle spiegazioni più dettagliate, insomma, più precise, Gianfranco. Possiamo poi anche fargli assumere delle pose differenti. Guardate un pochino. Aspettate che lo allontano. e vi mostro come il nostro personaggio cambia completamente la sua postura. Tenete presente che Make Human viene utilizzato molto spesso per creare degli umanoidi che vengono importati in OpenSim che sono poi inseriti in ambientazioni che possono essere poi utilizzate per l'attività didattica con i nostri studenti. Oppure Make Human vi permette anche di, insomma, fotografare poi i vostri umanoidi fare degli screenshot per creare delle immagini che poi servono anche per degli storytelling. Vediamo un pochino. Vedete, cambia completamente la postura. Però, la postura che a voi occorre per creare un umanoide che poi possa essere importato in in Vircadia è questa qui e ve la faccio vedere. La devo trovare è il T-Pose. Eccolo qua. Ed è questa. Questa è la postura che vi occorre per poter poi utilizzare questo umanoide in Vircadia. Ma, ripeto, questo aspetto magari lo affronterà meglio Gianfranco. altra cosa possiamo dare anche delle espressioni diverse al nostro umanoide e quindi in qualche modo rappresentare i diversi stati d'animo. Guardate un pochino vedete adesso fa un po' di impressione perché non gli ho messo ancora i denti magari poi proviamo a fare anche questi passaggi. Vedete ce ne sono diverse ancora una volta dovete decidere voi quella che corrisponde diciamo al personaggio che avete in mente. Allora proviamo adesso a vestire il nostro personaggio. Allora quando voi aprirete per la prima volta Make Human troverete alla vostra destra tutta una serie di risorse che il programma vi dà di default. Però noi poi vi farò vedere possiamo arricchirle attingendo alla community. Però adesso proviamo un pochino a mettere dei capelli a proviamo a ridargli un'espressione un tantino o meno adiratta. Allora andiamo su modelli aggiuntivi e proviamo ad aggiungere un vestito. Come potete vedere nel mio archivio ce ne sono davvero tantissimi perché? Perché col tempo ovviamente ho arricchito come dire il mio archivio con nuove risorse. Proviamo a mettere non lo so questo vestitino questo è un abitino insomma che copre abbastanza bene il nostro personaggio. Proviamo adesso a qua vi ho già detto che potete scegliere tra l'opzione high poly o low poly poi proviamo a mettere dei capelli vediamo un po' vabbè vediamo proviamo a mettere questa pettinatura eccola qua anzi proprio quella senza texture mi è capitata aspettate un attimo ecco proviamo a mettere questa vedete che questo personaggio ha già un suo un suo perché adesso proviamo a mettere anche dei denti vi mostro subito questi denti vado di nuovo su espressioni apro la bocca come potete vedere adesso il nostro personaggio ha dei dei dentini poi ne possiamo scegliere anche degli altri ovviamente torno su modelli aggiuntivi posso scegliere come vi ho fatto vedere prima delle sopracciglia vedete che ce ne sono diverse ok queste sono quelle che mi piacciono di più potete aggiungere anche delle ciglia ce ne sono diverse come vi ho fatto vedere prima e poi potete aggiungere anche la lingua perché se il vostro personaggio ovviamente lo modellate volete che abbia la bocca aperta diciamo che questo è un particolare scusate un attimo la sua espressione mi sembra un particolare piuttosto interessante allora diciamo che bene o male questo personaggio lo abbiamo in qualche modo modellato però se vogliamo ovviamente dare una definizione maggiore insomma dargli anche un minimo di espressività possiamo lavorare anche sulla modellazione più dettagliata e possiamo definire meglio i tratti sessuali come potete vedere anche in questo caso alla mia sinistra ho ancora una volta una serie di cursori che mi permettono che ne so di aumentare il volume del seno oppure di diminuirlo insomma vedete che cambiano alcune cose posso poi anche lavorare sul torso vedete che ancora una volta qua posso scegliere una categoria che ne so lavorare sul torso lavorare sul fianco sullo stomaco sui glutei sul pub e come vedete ancora una volta qua a sinistra avete questi cursori spostandoli verso destra o verso sinistra otterrete l'effetto che avete in mente proviamo un pochino a vedere andiamo sul torso proviamo un po guardate un pochino vedete come cambia vedete che posso renderla più muscolosa o più insomma cambiano diverse cose vedete anche in questo caso cambia il mio personaggio posso spostare il suo corpo ripeto make human non è concepito solo per creare degli umanoidi che poi dobbiamo salvare in un formato particolare che poi io vi indicherò ma sono personaggi che possiamo anche poi importare in open sim e utilizzarli nelle ambientazioni ancora una volta posso anche modificare gli arti del mio personaggio guardate un po posso agire anche che ne so anche sulle sulle dita aspettate che ve lo sposto così vi faccio un po' vedere guardate un pochino succedono anche in questo caso delle cose sto allungando le dita del personaggio però diciamo che la scusate che me lo devo avvicinare di nuovo andare sul viso allora però io vi consiglio sempre di lavorare in maniera accurata sul viso perché è quello veramente che fa la differenza a meno che voi non dobbiate insomma lavorare magari creare una persona uno sciancato non lo so una persona che ha la gobba e a questo punto effettivamente vi serve moltissimo lavorare su questa parte qua sul torso sugli arti però secondo me la cosa più importante è sicuramente il viso del nostro umanoide una cosa che vi consiglio di fare guardate un pochino queste freccette che sto toccando qua dovete impostare la simmetria che cosa succede se voi impostate la simmetria che tutti i cambiamenti che operate su una parte del volto sono puntualmente registrati anche sull'altra guardate un pochino io posso ovviamente aumentare ancora l'età del mio personaggio posso rendere il suo viso più grassottello o molto più sfilato posso cambiare vedete anche l'angolo per cui posso creare un certo prognatismo vedete un po' come si sposta in avanti il viso posso insomma anche definire meglio proprio i lineamenti del volto vedete l'ovale cambia cambia parecchio non vi preoccupate se vi sembra di vedere delle lacerazioni sul viso sul corpo sono cose che avvengono mentre io sto modificando qualcosa ancora vi faccio vedere un po' il tocchino più rotondo insomma posso fare diverse diverse cose posso poi vedete qua alla mia sinistra ancora una volta ho una serie di parametri su cui io posso agire sulla dimensione della testa guardate un pochino vi mostro una cosa allora guardate un po' cosa succede dovete dovete agire su questi cursori che ovviamente vi permettono di modificare il viso di scalare la testa di di accorciarla di muovere anche il viso ok allora posso lavorare poi che ne so sugli lineamenti del naso sugli occhi vi mostro adesso una cosa avvicino un pochino il personaggio allora per avvicinare verso di voi il personaggio dovete agire sulla rotellina del mouse spostandola all'esterno il personaggio si allontana spostandola verso di voi invece il personaggio vi si avvicina e quindi potete lavorare molto meglio sui lineamenti del viso guardate un pochettino modificando gli occhi che cosa avviene guardate un po' vedete che tutti i cambiamenti che io sto operando sono puntualmente registrati su entrambi i lati del volto guardate un po' vedete sto spostando semplicemente questo cursore e stanno cambiando proprio gli occhi stanno cambiando questi lineamenti guardate ancora ok quindi vedete che ci sono dei cambiamenti poi posso lavorare anche che ne so sulle dimensioni sui lineamenti del naso sui lineamenti della bocca sulle orecchie insomma su tutta un'altra serie di particolari che rendono insomma fanno la differenza rendono più interessante il volto un'altra cosa interessante sono i materiali abbiamo detto quindi potete cambiare il colore della pelle abbiamo già visto vedete come cambia questo personaggio che sto andando a modellare io di solito utilizzo questo perché rende insomma soprattutto i prototipi di genere femminile piuttosto interessanti piuttosto realistici allora cos'altro dire insomma vi ho fatto vedere adesso che cos'è la modellazione più dettagliata quindi tornando un pochino a vedere sulla modellazione abbiamo detto una modellazione principale che ci permette di definire sesso età peso proporzioni e poi di definire il gruppo etnico e poi insomma andando su vedete qua su sesso possiamo ovviamente ottenere una modellazione più dettagliata perché rispetto all'umanoide che avevamo all'inizio di default sicuramente ci sono tutta una serie di cambiamenti ecco una cosa vi voglio dire se non vi piace come dire qualcosa che avete che avete realizzato potete sempre tornare indietro quindi annullare l'operazione e tornare a quello che era precedentemente il nostro umanoide questo invece vi permette di annullare tutte le operazioni di resettarle e quindi di tornare all'umanoide così come era di default qua poi possiamo fare qualche altra cosa vedete possiamo vedere il nostro personaggio questo si chiama wireframe se non sbaglio sa il vero si si chiama wireframe esattamente qua possiamo aspettate che lo tolgo possiamo come dire no scusate non vi interessa lo sfondo possiamo inserire una griglia non me la sta facendo vedere non riesco a capire per quale motivo non mi fa vedere la griglia forse perché ce l'ha ai piedi infatti eccola qui ok allora abbiamo parlato poco fa come poi se volete vedere meglio il vostro personaggio potete anche vedete ok riportarlo in avanti ecco abbiamo parlato della community allora cliccando su questo pulsante community noi possiamo arricchire le risorse che il programma ci dà di default adesso ci vado e vi faccio un po' vedere guardate un pochino qua a sinistra qua ci sono come dire si chiama asset type ci sono una serie di asset che voi potete su cui potete lavorare sulle pose sugli abiti sui capelli vedete potete importare poi anche altre risorse come che ne so le sopracciglia le ciglia le pelli e poi qua ci sono anche insomma tutta un'altra serie di cose allora come faccio per arricchire il mio inventario allora innanzitutto clicco sulla risorsa che mi occorre mi servono altri vestiti allora devo fare una cosa qua innanzitutto devo attivare la sincronizzazione e devo io ovviamente l'ho già fatto quindi non è necessario farlo comunque tutti questi aspetti li potrete ritrovare anche nel tutorial di di Maria Luisa quindi devo cliccare qui quindi cosa faccio ho spuntato vestiti ok vedete che mi ha attivato la sincronizzazione e gli dico fammi vedere la lista dei vestiti me ne fa vedere un'infinità un'infinità però io posso fare anche diciamo una ricerca un po' selettiva e qui magari cosa metto ovviamente dobbiamo scrivere la risorsa che ci serve in inglese che ne so mi servono dei pantaloni non ribadisco anche qua scusate ho sbagliato mi fa gli dico fammi vedere tutti i pantaloni che ci sono nel tuo archivio guardate un pochino vedete che me ne presenta diversi cercherò quello che mi piace quello che mi occorre e come faccio a importarlo poi nella mia library andiamo un pochino proviamo con questo allora vado semplicemente a fare download vedete guardate qua sotto vedete che sta caricando la risorsa a questo punto do l'ok torno su modelli aggiuntivi vado a controllare tra i vestiti e qua semplicemente spostando questo cursore andrò a cercare quei pantaloni proviamo un pochino a vedere se me li ha importati scusate solo un attimo devo vedere eccoli qui me li ha importati quindi io semplicemente li ho fatti indossare alla mia signora ok allora posso ovviamente poi trovare se mi servono delle scarpe insomma posso importare un po' quello che mi occorre stesso discorso posso fare per esempio per i capelli no guardate un pochino fammi vedere la lista dei capelli ah no devo togliere ovviamente scusate ovviamente devo togliere e anche in questo caso me ne fa vedere tantissimi scusa se ti interrompo un secondo se avete visto c'è una colonnina che dice license licenza certo in teoria quelle che potete utilizzare con assoluta libertà sono i cc0 sì ma lo vedi subito Sal sì 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 voglio solo sottolinearlo per la gente che magari vede questo dove non c'è cc0 devo ovviamente nominare il sì solo una piccola osservazione sicuramente correttamente devo nominare l'autore grazie per questa precisazione Sal non adesso scusa se non non l'ho detto io vedete anche in questo caso mi serve questa capigliatura faccio un download e poi me la ritroverò ovviamente puntualmente collocata nella mia library relativa ai ai capelli quindi come importare avete capito allora se ovviamente utilizzate per la prima volta Make Human magari vi faccio vedere anche come impostarvi la lingua se volete perché il programma di default mi dà la lingua inglese ma io posso sceglierne anche delle altre lingue ovviamente c'è anche la lingua italiana io non sono particolarmente come dire non ho una particolare contezza della lingua inglese quindi preferisco lavorare ovviamente utilizzando la mia la mia madrelingua scusa allora quindi ricordatevi devo sincronizzare e poi devo andare qua a sinistra e cercare la risorsa che mi occorre poi come dire chiedere di farmi vedere la lista posso fare come vi dicevo prima una ricerca selettiva mettendo magari che ne so pants se mi servono dei pantaloni oppure se mi serve un vestito insomma se utilizzate la lingua inglese sicuramente vi farà vedere come dire le risorse relative a quella tipologia di abito che sto che sto cercando stesso per quanto riguarda vi ripeto che ne so vedete un pochino qua proviamo un po' a vedere anche qua mi farà vedere diversi tipi di dentatura guardate un po' e fate sempre con l'operazione che vi ho fatto vedere prima fate un download e lui ritroverete questa risorsa collocata correttamente nella ripeto nell'archivio relativo ai dent è chiara questa cosa c'è bisogno che la rispieghi mi date un feedback per favore ma non vedo scrivere niente e quindi hanno capito tutti perfetto sì sì cioè tutto chiaro chiarissimo perfetto Susanna potresti far vedere anche le modifiche random le modifiche random ah sì eccole qua aspetta un attimo eccolo qui diventa un po' mostro sì sì è giusto per far capire che è possibile anche utilizzare questo sì questa ma insomma il risultato è abbastanza scadente se ovviamente questo risultato non vi piace allora Maria Rizza chiede come può usare le risorse che non sono free ma in realtà sono free in alcuni casi bisogna citare citare l'autore così come succede per quando quando tu utilizzi delle immagini o anche delle risorse che ne so delle risorse che trovi su delle pagine web solitamente correttamente si dovrebbe citare l'autore per lo meno se si usano per scopo didattico non dovrebbero esserci particolari particolari problemi anche se hanno un copyright immagini e altre risorse però per uso didattico di solito insomma io ho sempre trovato queste informazioni nelle FAQ che se non sono come dire i materiali non vengono utilizzati per scopi commerciali basta citare l'autore e non dovrebbero esserci dei dei problemi e comunque mi sembra che un po' tutte le risorse abbiano il creative commons vero Eva? Sì infatti anche per non dovrebbero esserci dei dei problemi allora la nostra il nostro diciamo umanoide è più o meno modellato ovviamente ripeto si possono fare delle cose decisamente più gradevoli posso solo fare una domandina vedi che lì c'è un difettino quello lì bisogna ripararlo in blender certamente certamente allora oppure cambiare il vestito con una maglietta sì certo certamente però invece è interessante che ci sia questo questa imperfezione e ha ragione Sal allora tutti questi difetti possono essere facilmente risolti in blender no? perché? perché questo personaggio noi possiamo ovviamente salvarlo poi vi farò vedere come fare come esportarlo dobbiamo scegliere vi ho già detto un formato particolare per poter essere utilizzato in in Vircadia però ripeto tutte queste imperfezioni possono essere facilmente risolte con un diciamo rapido passaggio in in blender solitamente si lavora sulle facce vengono spostate ma c'è un piccolo tutorial che feci forse qualche anno fa e che Maria Luisa ha compreso in un repository vero Maria Luisa che poi caricherà nella classroom tra i tra i materiali metto il link messo a disposizione della ovviamente della della nostra classe e Susanna scusa ricorda anche il fatto che bisogna definire il sistema di misura unità di misura di impostazioni sì esattamente vado su impostazioni e scegliete se è spuntata è sempre metrica perché se è spuntata è imperiale vi dà tutti i sistemi di misurazione britannici che non corrispondono a quelli a cui noi siamo abituati vedete adesso sono andata su impostazioni come potete vedere io ho spuntata la lingua italiana però in realtà se voi non avete difficoltà con l'inglese potete lasciare la spunta su inglese e lavorare tranquillamente in questa maniera un'altra cosa che vi permette di fare make human se volete cambiare le impostazioni e anche cambiare l'interfaccia io mi trovo meglio con questa interfaccia un po' scuro però potete spuntare anche look nativo e vi mostro un pochettino aspettate no ecco qua vedete che l'interfaccia è diventata decisamente più chiaro io sinceramente non lavoro bene con questo tipo di interfaccia preferisco utilizzare utilizzare questo scusami Susanna allora Shatram chiede se le risorse CCBI non vengono nominate dal programma a modo suo cioè ci pensa lui cioè il programma credo a mettere il nome dell'autore no non credo no 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 assolutamente invece Laura pensava che per come dire per risolvere il difetto pantaloni maglia bastasse ridurre il il personaggio ma io non credo certamente anche questo si può fare proviamo un pochettino ad andare di nuovo su modellazione principale proviamo a vedere se questo si risolve proviamo a diminuire un po' il peso e vediamo cosa accade perché non sempre non sempre guardate un pochino proviamo a lavorare anche sulle proporzioni secondo me no non mi sembra che che cambi secondo me è proprio un difetto dovuto come sono costruiti quegli abiti certo sì no allora vi spiego anche un'altra cosa allora io faccio anche questa cosa allora vedete che io ho messo qua dei pantaloni e poi c'è una maglietta presumibilmente questa maglietta è troppo lunga rispetto all'altra che ho caricato sul personaggio anche questo è un problema che si può risolvere su blender allora se voi in blender selezionate solo la maglietta e togliete un giro di vertici questa parte vi sparisce vedete la parte che sta sotto il pantalone e a quel punto voi avrete un pantalone che è perfetto altrimenti potete lavorare a volte succede anche che ci siano degli strappi sui vestiti e allora dobbiamo lavorare su blender per risolvere questi problemi oppure semplicemente possiamo eliminare una parte della risorsa che abbiamo caricato e a quel punto vedremo i pantaloni insomma perfetti senza questa maglietta che sbuca in questo punto perché in realtà io ve la vicino guardate un pochino è proprio la maglietta che sta spuntando qua e quindi questa è una parte della risorsa della maglietta che io debbo sicuramente eliminare ovviamente oggi non c'è tempo per farvelo vedere perché stiamo semplicemente parlando di come modellare un umanoide e poi come inserire uno scheletro ma questa è una cosa che vi farà vedere Gianfranco Gianfranco dice che lui cancella le facce non visibili in blender così si alleggerisce anche il personaggio lo faccio io esattamente perché credo che su Vircadia non sia così importante il numero dei vertici però se voi dovete importare il personaggio in open sim i vertici sono importanti e come per cui se voi caricate eccessivamente il vostro umanoide è molto probabile che in open sim voi non riusciate a caricarlo e visto che Maria Rizza è presente in un corso che abbiamo fatto io e lei Maria ha come dire fatto indossare a un suo personaggio una giacca che da sola aveva circa 120 mila vertici è ovvio che mai e poi mai sarebbe riuscita a poi importare in open sim quel personaggio perché credo Sal che non si debbano superare i 65 mila vertici vero? sì esatto a volte comunque sì in pratica sì comunque io vi consiglio vivamente di mantenervi sotto i 50 perché comunque crea dei problemi ugualmente allora quindi il nostro personaggio è più o meno pronto a questo punto cosa ci resta da fare? ci dobbiamo salvarlo guardate un pochettino vado su file e salvo il mio personaggio ma cosa importante è che devo dargli un nome come possiamo chiamarlo? possiamo chiamarlo umanoide dai una roba così un po' generica umanoide tipo os via bene dobbiamo ribadire il nome del file anche qua allora finissimo no ho sbagliato scusate devo aggiungere una P e devo spostare scusate sto facendo un po' di macello ma lo risolviamo subito ok e devo salvarlo guardate un po' cosa sta succedendo qua mi dice che il mio modello è stato salvato allora a questo punto posso esportarlo qua ci sono diversi formati allora il formato collada è quello che solitamente si usa in OpenSIM è quello che carica però a noi serve questo formato qui FBX allora e qua basta cliccare questo pulsante oppure potete anche utilizzare cliccare su questi tre puntini decidere dove esportarlo oppure crearvi semplicemente una cartella in precedenza dove potete raccogliere i vostri umanoidi io per comodità lo posso lo esporto in sul mio desktop e do anche un nome scrivo umanoide cose ok e vado qua a salvare ok vedete che qua mi dice che la mia mesh è stata salvata correttamente allora che cosa fa make human non mi salva solo l'umanoide ma mi salva anche una cartella che contiene tutte le texture che noi abbiamo applicato perché ovviamente abbiamo applicato un materiale sulla pelle un materiale ovviamente sugli occhi vedete abbiamo scelto queste iridi abbiamo applicato un materiale anche sui capelli e via di seguito anche sui vestiti adesso io devo interrompere questa condivisione e devo condividere con voi il mio il mio schermo e Susanna aspetta un secondo solo volevo aggiungere solo una cosa dove nella barra menu a icone dove vedete il punto di domanda se cliccate lì troverete quello di cui vi ho parlato prima cioè l'accesso diretto al gruppo facebook al sito grazie Luisa ok vedete qua ci sono le FAQ insomma c'è scusa Luisa non allora un'altra cosa che potete fare però queste cose magari ve le spiegherà meglio il tutorial di Luisa potete fare anche degli screenshot e quindi anche fotografare già in McHuman il vostro umanoide e aprendo i documenti McHuman troverete le fotografie gli screenshot del vostro personaggio in una sottocartella che si chiama grab troverete tutte le immagini del vostro umanoide se eventualmente dovesse servirvi per creare uno storytelling adesso io interrompo la condivisione e condividerò con voi lo schermo del mio pc ok torno qua e gli dico schermo intero vediamo un pochino aspettate oddio come faccio saldami un po' la mano qui sto condividendo lo schermo intero però non vedo non succede proprio nulla qualcuno mi aiuta per favore aspetta ma se tu hai premuto sharing your screen non ti è comparso la cosa dove ti dice schermo intero schermo uno schermo se ne hai più di uno no 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 io volevo condividere il mio il mio schermo lo schermo del mio pc sal si ma lui dovrebbe io quando clicco quello c'è il terzo schermo intero c'è proprio scritto una cosa scritto schermo intero finestra scheda chrome ok finestra tu non lo vedi si finestra si però non mi appare il ma se tu clicchi su schermo intero non ti appare niente sotto no mi appare praticamente lo schermo che stiamo già condividendo cioè questo si si ma devi cliccare su quello in modo tale che sia tutto blu e poi fai condividi aiuta cosa faccio adesso no no quello perché stai condividendo una cosa che si deve andare poi dove vuoi tu e ignora tutta questa roba qua che è solo confusione io devo andare sul mio pc sul mio schermo sullo schermo del mio pc adesso si ma tu sei sullo schermo del tuo pc che però sta guardando il video che tu stai proiettando e quindi crea questa roba voi vedete in qualche momento lo schermo del mio pc si si perfetto perfetto allora vedete umanoide ti pose lo apro aspettate un attimo aspettate sta aprendo quel visualizzatore eccolo qua non riesco a capire perché mi ha tolto il corpo sal non riesco a capire per quale motivo e poi qua trovate la cartella guardate un pochino dove ci sono tutte le texture che io ho applicato queste vi occorreranno ovviamente per lavorare in blender ma tu l'hai esportato come come fbx come come fbx guarda prova a esportarlo normale come fai tu normalmente anche in collada in collada ok proviamo un po' si è più abituata quindi certo allora esporta spunto collada aspetta solo un attimo sal ok perfetto eccolo qua un manovide tipos con lava vedete si le texture me le aveva già esportate adesso però io non ho un visualizzatore sal per ho capito vabbè al limite partiamo poi noi qui da qua ma tu se devi editarlo in blender cosa fai vai in blender adesso aspetta apro il programma apri blender non lo mettiamo in blender no 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 lo sto aprendo sto aprendo blender devi solo aspettare un attimo sì sì devo aprire la cartella dove ho oddio dove l'ho messa adesso eccolo qua apro blender sal sal vedete blender si lo faccio volendo ok certo cancello questo allora importa collada vado sul mio desktop ok importo eccolo qua aspettate un attimino adesso vediamo se mi ha caricato anche le vedete che mi ha caricato anche le texture eccolo qua allora per risolvere questo problemino io cosa faccio così ve lo faccio vedere vediamo un po' guardate un pochino li hai tolti proprio è perfetto vedete è perfetto allora ricordatevi se volete esportare questo questo personaggio poi cioè se volete ovviamente magari fateci dei lavori su blender non so in realtà potreste anche voler cambiare le texture a questa maglietta perché magari non vi piace il colore potete cambiare anche il colore dei capelli però adesso non imbarcherei in una in una diciamo parentesi legata alle testurizzazioni però per avere poi le texture e poter esportare poi il il vostro umanoide in open sim ricordatevi sempre questo passaggio dovete ovviamente dargli un nome e salvarlo e poi ricordatevi sempre che dovete incorporare i dati esterni e quindi a questo punto insomma le texture dovreste ritrovarvele anche una volta che voi esportate il vostro il vostro personaggio ma mi pare insomma che le cose essenziali sal cosa dici le abbiamo dette un po' tutte sì sì hai detto un sacco di cose molto ma voglio sperare che sia stata insomma che fosse comprensata chiarissimo comunque le texture poi si possono anche applicare importandole a parte esattamente in realtà le potete anche utilizzare quelle texture se il vostro diciamo umanoide la vostra mesh non ha un numero spropositato di vertici in realtà questo umanoide ne ha 26.000 quindi è proprio facile 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 portarlo in in open sim tutte le texture voi avete la vostra cartella le potete applicare anche in insomma in in craft o in edmondo eventualmente se lavorate su insomma insomma su questo mondo mondo virtuale e niente mi sembra che più o meno abbiamo detto tutto se qualcuno ha bisogno di aiuto se vuole fare delle delle prove con come human io sono disponibile per insomma darvi delle dritte o comunque aiutarvi a realizzare degli umanoidi so che ci sono qua delle colleghe che stanno seguendo la lezione che con mac human hanno già dimestichezza però insomma per i neofiti la mia disponibilità è presumo anche quella di Luisa sì sì certo basta che ci abisiate insomma certo certo assolutamente va bene io interrompo la condivisione e do la parola a te a Gianfranco Sal cosa dici sì prendo io la parola grazie per l'attenzione grazie a tutti allora intanto il fatto di aver visto questa brillantissima esposizione di make human che è importantissima perché io sono entrato un sacco di volte in make human ma non sono mai riuscito a fare tutte quelle cose belle che lei ha fatto in dieci secondi neanche adesso magari però abbiamo visto che si possono fare e non sono neanche tanto difficili basta in realtà giocare scaricarsi un po' di cose dalla community e poi eventualmente lavorarci ma se anche uno non sa lavorare in blender comunque può prendersi delle cose e anche se ci sono dei difetti questi difetti spesso in una scena più complessa si notano poco non sono così evidenti ho già fatto uno studio psicologico su questa cosa qua ho descritto nei miei corsi che quindi i difetti a volte si possono ottenere mi è venuta però un'idea vedendo quello che ha fatto Susanna e cioè che visto che tutto quello che ha fatto vedere tutto sommato è abbastanza autocontenuto nel senso che richiede di soltanto di entrare in make human di giocarci un po' e poi di esportare il collada con le texture eventualmente un esercizio che potreste fare tutti voi molto semplice è quello di provare a crearvi degli avatar dei manichini che poi adesso vi faccio vedere come una volta creato un manichino possiamo portarlo dentro Vircadia quindi magari per rendere un pochino più leggera la lezione cioè l'incontro di stasera diciamo ci fermiamo almeno come modellazione come cosa qui nel senso che con Gianfranco magari ci studiamo poi bene poi il fatto di avere l'avatar con le animazioni e con le texture tutte a posto eccetera magari per la prossima volta e così io vi farei solo vedere un piccolo passaggio cioè praticamente esatto e così anche Gianfranco non ha l'ansia che non sente quello che diciamo o che insomma c'è c'è qualche cosa che non quadra poi oggi abbiamo visto che effettivamente sono cambiate delle cosine quindi lo scheletro quella cosa che vi diceva Susanna è cambiato qualcosa per cui le tecniche che lui usava fino a due settimane fa sono un secondino da rivedere comunque io faccio allora se ci riesco provo e tra l'altro chiedo magari l'aiuto anche di Susanna mentre faccio questa operazione qua dunque condividi lo schermo intanto quindi schermo intero condividi e qui dovreste vedere il mio schermo a questo punto confermatemi se lo vedete sì ok allora io qui prima intanto che parlava stavo cercando ma era un po' difficile di stare dietro e ho cercato di importarmi alcune cose mi sembra questo pantalone eccetera giusto per vestire l'avatar e poi però volevo anche introdurre le skin però non mi ricordo più dove erano mi ricordi dove sono devo scrivere skin proprio qua vai dove sono skin c'è già la voce skin e poi da qua devo cercare vai tu update no 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 update scendi 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 ok ok se ne da tantissime sal si si prendiamo ma sal ci sono tante anche di default ci sono tante anche di default allora niente ma abbiamo preso i pantalotti perché non li avevo trovati prima quindi tra parentesi sto facendo un po' di test in diretta della lezione dell'incontro insomma delle spiegazioni che ha fatto questa quindi se io prendo io mi sono fatto prima ho modellato semplicemente gli ho messo una cosa africana maschio e basta e volevo solo vestirlo velocemente per vestirlo velocemente quindi la cosa più semplice cosa mi consigli cosa facciamo vedere vai su modelli su modelli e poi qui ci sono i vestiti no no aspetta aspetta vai sulle geometrie geometrie poi vai su cloth ah ecco mi era sfuggito quindi c'erano infatti io ho capito male questa cosa qua perché quindi vado qua quindi per dire io qui posso cercare praticamente un vestito belli quelli lì sono di default però puoi arricchire il tuo archivio sì sì ma a me interessava solo non fare la solita figuraccia di mettere il manichino nudo no dai va bene così che così almeno mi dite che sono sono giusto ok lo ho scritto mettoni anche le scarpe ah sì mettiamo le scarpe ma sei come l'IQ eh infatti ok scarpe va bene così quindi questo è la T-Pose ma ci abbia un po' tutto no sì sì mi sembra che sia tra l'altro navigo si vede eccetera la T-Pose oppure possiamo metterci anche ecco volevo fare una simulazione di quello che eventualmente potremmo lasciare come compito per la prossima volta a chi ha visto questa lezione no cioè di fare ognuno un personaggino no tipo questo e c'erano le pose giusto pose animate quindi ci sono un po' di esempio questo lui che vola ne sono tanti insomma oppure che fa che corre ecco questo qui è una cosa interessante e poi hai detto che bisogna mettere anche la metrica giusto nei settings esattamente devi scegliere metrica è già metrica perché quello è il nostro il nostro sistema di misurazione perché il segnale invece è quello britannico Gianfranco vorrebbe intervenire Sal sì sì non si può smontare sì o dobbiamo smontarlo noi bella domanda nel frattempo in Make Human si può anche usare il testirino per vedere il personaggio di profilo di fronte dall'alto uno due tre con i vari numeri aspetta Gianfranco gli ho chiesto di ammutarsi ma dove ok mi sentite bene sì io vi sento a tratti quindi ogni tanto capisco altre cose le ignoro completamente allora Sal forse è meglio far vedere come si esporta per Vircadia sì infatti volevo arrivare lì però volevo avere una posa ma esportare volevo esportarlo semplicemente come FBX no sì sì ma conviene sempre in T-Pulse perché altrimenti poi è un un macello mettere se ti ricordi bene mettere i punti giusti per lo scheletro no no ma senza fare scheletri cioè metterlo come manichino solo ah solo come manichino sì sì allora solo come manichino per fare un pezzo per volta così anche le persone sono anche più tranquille che imparano bene sì sì anche se in Vircadia conviene più dare un più che manichino fisso dargli un movimento cioè un'animazione e quindi farlo passare per per Mixamo per Mixamo e poi dargli un'animazione sarebbe molto più ma anche lì magari lo facciamo poi tutti insieme una volta prossima sì 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 se siete d'accordo mi rimuto di nuovo no 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 spero di riuscire a capire qualcosa perché ripeto sto sentendo attratti oggi non so perché sì sì no ma appunto comunque è benvenutissima il fatto che si sia non allungata ma giustamente ha descritto tutte le possibilità di Make Human almeno le principali magari ci sono altre ma è sacrosanto perché se uno usa poi un prodotto all'1% di quello che può fare insomma così potente come Make Human è veramente un peccato io allora quello che diceva lui di esportarlo però lo esportiamo per il momento in una maniera semplice cioè semplice vuol dire che prendiamo solo lui andiamo in files facciamo l'export e ce l'esportiamo in formato film box cioè fbx il fatto che si chiamava film box forse lo sapevo ma tutte le volte mi stupisce di trovarlo film box e poi mi diceva Gianfranco di metterlo in metri ma credo che l'impostazione e misure metriche prima l'abbia poi messo già a posto quindi praticamente una volta che l'avete impostato film box e anche gli occhi lo poli se ti ricordi se no si mettiamo gli occhi lo poli perfetto grazie quindi gli occhi lo poli dove sono già i materiali devi andare sempre in geometrie e vedi i eyes ecco ma è già lo poli forse perché se l'hai ricordato la volta prima che gli ho fatto sono entrato prima al solito di default si quelli metti di default quello sei tu che devi impostare l'ipoli si però diceva Gianfranco che se se non sono low poli poi diventano vuoti quando si portano su bircadia invece in open scene succede esattamente il contrario invece in bircadia succede esattamente il contrario orbite vuote come ti sposti dalla mesh ok quindi prendiamo questo carattere abbiamo quindi i files dopo aver rimesso gli occhi ho controllato che siano giusti film box lo chiamiamo come lo possiamo chiamare possiamo chiamarlo Jim no? tanto per dargli un nome visto che potrebbe chiamarsi Jim facciamo export quindi abbiamo un Jim punto FBX che apparirà da qualche parte allora io che sono sempre quindi facciamo Jim punto FBX che non so mai dov'è lo cerco con everything eccolo qua FBX allora FBX è questo qua e in teoria se è così non so se ci siano dentro le skin comunque cioè le texture comunque proviamo a metterlo in in bircadia non le mette direttamente le devi caricare poi tu in bircadia nella stessa cartella cioè nella cartella dove metto Jim FBX però diventa un po' casino vero? no dovresti avere una cartella con texture si chiama sì ma in bircadia se si mette Jim e poi una cartella dove stanno le texture non le prende deve essere messa nella stessa cartella di Jim ah ho capito quindi lui le texture me le ha messe qua dentro come vi state dicendo queste queste sono te le texture sì perfetto devi andare su model per caso e trovare la cartella del modello no Jim FBX è questo e poi dentro FBX c'è tutto tranne le texture che sono qua dentro quello che sta dicendo adesso Gianfranco è che se si vuole fare in modo tale che Vircadia le legga queste texture devono essere messe nello stesso posto in cui c'è le FBX cioè bisogna andare dentro textures prendere tutte queste texture e questo è un modo un po' brado per farlo ma l'idea è che siamo in export qui c'è Jim FBX control V e c'è tutte le sue PNG quindi BrownEye la sua il suo abito e via discorrendo se non si fa così sta dicendo Gianfranco che queste texture diventa bianco ed è quello che parecchi di voi mi hanno lamentato a più riprese allora se siamo fortunati adesso prendendo queste cose entrando in Vircadia dovrebbe vedersi tutto prima di continuare in Vircadia voglio solo interrompermi per chiedere a tutti gli altri che non partecipano attivamente all'audio se hanno capito se questo giro che abbiamo fatto sembra un casino oppure se c'è una si pensano che abbia una logica mi pare che Maria Sgrovi c'è tutto ok Laura Antichi bene sì mi sembra chiaro sì no perché no perché questi giochetti qua sono ho visto gente che proprio si è scoraggiato parecchio perché mi arriva bianco e quindi poi bianco sì è abbastanza però insomma non è quello che volevano quindi proviamo a entrare a questo punto in Vircadia e vediamo un po' se questo manichino chiamiamolo manichino più che avatar in questo momento così ci capiamo quindi oggi facciamo di fatto i manichini allora andiamo su Vircadia quindi andiamo su Vircadia che qui tra l'altro avevo un avatar forse me lo sono ricambiato perché avevo tutti i avatar stupidelli che ho fatto oggi pomeriggio ma e vediamo anche se il computer diciamo sta in piedi perché anche oggi tendeva ok qui c'avevo questo che è un avatar eccetera ma adesso il nostro obiettivo non è tanto quello di cambiarmi l'avatar di adesso ma di andare dentro create e se notate che io lo metto dal mio computer quindi se per caso entrate lo vedrete è tutto bianco cioè vedete un quadrato un cubo blu cioè quindi perché non sto a scaricarlo sul server di Gianfranco però immaginate che l'abbiate appena fatto l'abbiate messo su quel server quindi noi andiamo nel prendiamo praticamente il la cartella quindi export anzi facciamo ancora meglio lo prendiamo direttamente da questo mio programmino che è la mia salvezza nel senso che gli dico copio il percorso completo negli appunti vado qua prendo il model inserisco il model e gli metto l'fbx corrispondente al gym che vedrò solo io voi lo vedrete attraverso la condivisione di schermo e se volete che la gente ci sbatti addosso bisognerà mettere almeno non so quale sia ma comunque mettiamo exact e poi facciamo create e se tutto è andato come spero no è venuto bianco forse non hai copiato il come si chiama le le texture ma l'ho fatto nel senso che sono andato praticamente qui dove vedi dove c'è il gym.fbx e provo a mettere nel server probabilmente capito non col computer non te lo fa col server a me esce perfetto appena metto la textura se prima era bianco poi diventa testurizzato può anche darsi che ci piega un po' di tempo ma comunque proviamo a fare vediamo se riusciamo a fare tutto il giro quindi adesso o se no alternativamente se ti è funzionato vuoi condividere tu lo schermo che mi sembra che adesso ti stia funzionando ce l'hai con me dici? si 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 ah io sto beh ok cerco di condividere un minuto solo no visto che mi hai detto che l'hai appena fatto quindi si dove sta dove sta così lo fai vedere tutti i passaggi che hai fatto perché adesso qui non sono collegato ai drive quindi mi viene a lunga allora un minuto allora non posso condividere forse non ho il permesso dunque aspetta aspetta ma se non ce li hai te li diamo Gianfranco giusto? si va ma nei tastini che c'è sotto ti dice che proprio non ce l'ha il terzo tastino disponibile vai ora allora rifaccio di nuovo e vediamo aspetta un po' e comunque tolgo il mio sharing allora condividi no non schermo intero neanche finestra allora una finestra si lo schermo intero non me lo fa condividere no ma devi cliccarlo lo schermo intero eh si grazie l'avevo cliccato ma non ora si ora si allora perfetto un minuto che è riuscito a vedere Dante anche Susanna ha avuto un problema simile prima è riuscito a vedere Dante si si oh perfetto allora basta fare questo io vado ho già un aspettate che prendo allora vediamo un po' eccolo qua vado sul server generale vediamo un po' questo facciamo elementi e facciamo qualche cosa di ok allora ma con l'fbx l'hai fatto da make you no no questo allora un minuto questo se volete un personaggio io cioè li faccio con con altri programmi ho provato anche con make you man però preferisco altri che sono un po' più più realistici comunque no no ma la mia domanda era un'altra come ha capito anche me era Luisa che probabilmente forse le texture vengono se si passa da blender no 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 ti posso dire questo che io ho provato direttamente con make you man e me le dava e te le dà ok hai voglia di fare proprio il giretto si prova ora provo a vediamo un pochettino avatar nuovo prendi quello che ha fatto sal no ma il mio non lo può vedere perché non è sul mio computer ah ok deve rifarselo però tanto lui dovrebbe riuscire a rifarselo facendo velocissimo vediamo un po' se ah devo aprire pure un altro programma ma make you ma no deve aprire no no l'avevo già fatto uno per far vedere com'era solo che devo aprire cyber duck per metterlo inserirlo ah ok nella server ok facciamo così mettiamo uno nuovo allora state vedendo i passaggi perché sono gli stessi che poi dovete fare voi per per inserire tutto allora vediamo un po' perfetto andiamo qui allora nuovo copia allora vedete eccolo qui io l'ho fatto francamente l'ho fatto in centimetri mi sono dimenticato però è un gigante eh sì infatti però almeno esce vedete esce tutto texturizzato probabilmente ripeto dal computer non non prende le texture invece se lo metti nel server non c'è problema ok faccio poi la prova solo che appunto adesso siamo praticamente verso la fine dell'incontro ma sei notato adesso farò anche un video magari per quest'ultima almeno per questa parte che abbiamo fatto vedere e con tutto il giro anche da Cyberduck quello che è insomma RaiDrive per mettere le texture eh sì allora l'importante è mettere creare una cartella per non fare confusione e mettere sia la mesh nella stessa cartella sia la mesh sia le texture e poi quando si rezza la mesh le texture vengono direttamente scusate visto che c'è la cartella texture basta mettere dentro il file fbx sì va bene si può fare anche così grazie ho pensato la stessa cosa anch'io noi siamo un po' più sì però dal punto di vista teorico è un pochino più confuso perché tu vai nelle texture e trovi una mesh che non è proprio quello che ti aspetteresti di trovare basta rinominare ah sì rinomini la cartella certo però allora se vedete qui ho riuscito a vedere qui sotto qui c'è il percorso e praticamente non bisogna creare nessun'altra cartella o metterla alla mesh nella cartella dove stanno le texture oppure prendere le texture e spostarle nella cartella perché questo è il percorso vedete delle texture è questo qui che lui cerca che Vircadia cerca quindi se noi ne mettiamo in un'altra cartella questo è andare a modificare lì dentro qui dentro purtroppo non si può modificare non si può scrivere nulla no è fisso no anch'io ho provato ma niente allora sai che cosa probabilmente è questo il pezzo che permette sai quando ho accennato la settimana scorsa che c'era i materiali un tipo particolare che lo sbandieravano proprio per il fatto che lo agganciavi come figlio cioè dovevi farlo parent o non mi ricordo in che ordine cioè parent del tuo oggetto o viceversa e a quel punto il materiale diventava praticamente guidava tutte le texture dell'altro no? sì però parliamoci chiaro per fare un personaggio conviene prima cioè fare così è più veloce certo 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 no ma però stavo proprio pensando all'utilità di quell'opzione che veniva sbandierata come possibilità diciamo nuovissima ed erano tutti orgogliosi orgoglioni ma forse più quando si costruisce direttamente qui e allora abbiamo bisogno di di materiali ce li facciamo prima creiamo i nostri cubi qui e ci aggiungiamo il materiale perché se l'abbiamo se lo facciamo già tutto in Blender oppure in Make Human cioè facciamo dei passaggi stratosferici non conviene proprio sì no loro lo rappresentavano come possibilità di poter vedere data per esempio a parte gli avatar loro lo facevano tipo palazzi eccetera poter cambiare dinamicamente e mettersi dentro dei colori per far vedere come verrebbe il palazzo senza doverlo rimportare tutte le volte col colore diverso non so se hai capito la allora ho capito il senso perché lo sento a tratti ah beh sì comunque io direi questa cosa qua con l'opzione di usare Rai Drive non dal computer locale provatela provate a vestire un avatar più bene come ho fatto vedere prima io in due minuti e poi ecco l'idea che mi era venuta in mente prima che voi praticamente nel vostro isolotto potete fare una piccola potete importare due o tre esempietti di avatar no in modo tale da avere una specie di esposizione no che poi magari possiamo anche mettere in un posto vicino a un certo punto di cose interessanti da vedere poi possiamo fare un museo delle cere un museo delle cere ecco un'ottima cosa possiamo fare un isolotto con il museo delle cere e così raccogliere secondo me ha un valore didattico notevole perché vabbè a parte qualcuno si scoragerà perché vede i tuoi le tue cere che porti tu poi specialmente se riusciamo a farli movimento sincronizzare il movimento e audio assieme quello lo sarebbe a Gianfranco a Gianfranco fare un isolotto a parte sennò ci fa sfigurare bisogna fare un recinto dove ci sono Gianfranco che programma usi invece di McHuman allora iClone è un programma diciamo professionale però non costa neanche tanto creator character per fare i caratteri e poi iClone proprio per dare il movimento c'è anche una sincronizzazione con la voce insomma fanno i film animati con quello ah caspita no è fatto bene veramente interessante ma quando dici che non costa neanche tanto cosa vuol dire allora nel senso che rispetto rispetto alle mie tasche perché il mio cognome adesso lo vendono a 150 dollari eh appunto però ci vogliono tutte e due sia McHuman scusate sia iClone sia creator character creator character si fanno i personaggi e invece con iClone si dà il movimento e quindi si possono far parlare poi ci sono anche delle ambientazioni quindi si possono registrare direttamente anche come video c'è un sacco di materiale charactercreator.org allora vai su iClone scrivi iClone no iClone ce l'ho già arrivato su iClone ok ma e poi invece iClone 7 ah no sono su iClone 7 è quello allora vediamo un pochettino prova a farlo vedere tu un secondo sì sì un minuto vediamo un pochettino vediamo un pochettino c'è sempre condividendo lo schermo? sì devo prima trovarlo perché ce lo faccio ok ecco ah il pacchetto è iClone come iMac un minuto che ora condivido un minuto solo no 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 ma Maria Rizza questa è solo una curiosità che abbiamo perché lui dice allora chi vuole fare qualche cosa di più impegnativo questo credo che sia il il programma adatto un minuto che lo no era solo per spiegare il tutto nasce dal fatto che adesso se facciamo il museo delle cere vedrete che Gianfranco fa delle cose meravigliose ma le fa sia perché è bravo ovviamente ma anche perché ha speso anche qualche soldino quindi era solo perché non eccolo qui riuscite a vedere? sì questo è il Real Illusion questo è il programma generale e poi ci sono tanti altri programmi c'è Creator Character per fare il carattere si può prendere anche una fotografia e quindi riprendere l'immagine dalla fotografia e quindi fare un avatar io per esempio i personaggi storici li sto prendendo dai dipinti e poi c'è quest'altro dove sta dove sta dove sta allora iClone che serve per dare il movimento e quindi fargli parlare fargli interagire si può creare un'ambientazione ci sono già delle impiantazioni diciamo standard però poi se uno vuole può comprarsi anche delle ambientazioni che poi non costano neanche tanto ma in che formato puoi esportare? li puoi esportare in allora Cane in DAE li puoi esportare in FBX quindi niente OpenSIM no ma poi non conviene OpenSIM non conviene perché alcune cose sono troppo pesanti ok ovviamente rispetto a Make Human siamo su un altro livello di come dire di competenza sì perché allora iClone per farvi capire è un personaggio completo stai su 150 160 megabyte invece con Make Human credo un proprio 30 ma mamma mia no vabbè cioè facciamo prima comunque chiusa prevalentemente Vircadia va benissimo se invece un programma che si usa in Edmondo eccetera io lavoro soprattutto in Edmondo allora questo non va bene una piattaforma sicura dove posso far entrare i miei ragazzi cioè mi interessa sì sì cioè farci didattica capito no anch'io preferisco lavorare in OpenSIM io invece preferisco lì va bene gestiamo sì sì ma comunque noi stiamo facendo vedere le varie cose comunque Vircadia non è che sia una cosa pubblica cioè anzi è la cosa più vicina a OpenSIM che esiste oltre a OpenSIM faccio solo presente questo perché non vorrei che passi la cosa che Vircadia sia un'architettura non adatta perché alle scuole anzi è tutto il contrario ma dipende dall'uso che ne fai Sal scusa ma qual è la differenza cioè nel senso che se tu fai un'ambientazione in OpenSIM o in Vircadia qual è la differenza appunto ma dicevo dipende dall'uso che ne fai se tu ne fai un uso didattico va benissimo Vircadia quanto è DeMondo quanto Craft esatto esatto volevo semplicemente anzi asserire quello che tu stai stai sostenendo insomma volevo dire la seconda no ma perché in effetti con Vircadia abbiamo l'open source totale nel senso che siamo in un ambiente controllato invece quando ero ancora ai Fidelity tre anni fa era tutto sommato sì sempre open source ma eravamo sempre sotto il controllo di i Fidelity che era una società americana quindi era un po' come essere sotto Microsoft e invece nelle scuole secondo me questa è una mia opinione ma molti sono della mia stessa opinione è meglio usare architetture aperte e protette proprio perché appunto nelle scuole appunto è utile avere una cosa scontrollata quindi su Vircadia ma questa è una cosa che magari se ce la facciamo lo vedremo ancora meglio è possibile costruire su un computer esattamente come si faceva con OpenSIM non so quanti di voi l'abbiano fatto chi di voi ha usato Simmona Stick io l'ho usata sì io anche con i ragazzi ecco Simmona Stick era più sicuro di quello si moriva nel senso che Simmona Stick era una roba che tu mettevi sul computer la lanciavi l'abbiamo usata anche Maria Messere Rosalia credo al caso e poi quando non c'era più bisogno la spegnevi te la portavi a casa e stava addirittura spunto si chiama Simmona Stick vuol dire che avendo l'intera Sim su una penna USB e una cosa simile si può fare assolutamente con Vircadia cioè si può lanciare sì Vircadia secondo me è meglio almeno secondo me logicamente per le mie esigenze perché se devo costruire qualcosa tipo che ne so una parte di Roma con OpenSIM mi ricordo che l'ho fatto ci ho messo una settimana per scaricarlo invece qui 5 minuti ma non è solo quello il problema di OpenSIM è che almeno la mia esperienza è che il 70% delle cose che poi si vogliono caricare non si caricano proprio nel senso anche se sono sotto la soglia fatica che dicevamo prima di 64.000 vertici che diceva Susanna tante volte lui si blocca e dice errore non riesco a caricare e allora se si è fortunati dopo un po' si capisce cos'è e in qualche modo se ne esce però ci sono e mi è successo delle cose per cui alla fine dovevi magari spezzare la cosa che volevi importare in 7 8 3 2 insomma pezzi però questo rendeva il tutto tremendamente lungo e complicato inutilmente complicato mentre invece anche Shantaram mi confermava l'altro giorno che lui quando ha messo cos'è che aveva fatto un cos'è un coso trionfale c'è un pezzo di architettura che aveva un tot di texture un tot di roba l'ha messo in Bircadia e è venuto subito e quando ha provato a metterlo in OpenSeam è totalmente impazzito e non credo che ci sia riuscito a portarlo in OpenSeam quindi sì posso confermare che queste cose devono essere più leggere possibili sì Shantaram fa il suo commento e poi direi che possiamo dopo il suo commento a meno che non ci sia proprio una discussione tangibile chiudere poi la registrazione commenta pure Shantaram riesci a smutarti o devi essere smutato fammi un po' vedere com'è la situazione allora dunque sì ecco salve buonasera no allora dunque avevo problemi con sì sì quello era un pezzo con tante texture dunque ho fatto il tentativo estremo col GLB le ha prese tutte su su Vircadia ovviamente perché il GLB può andare su Vircadia su Vircadia le ha prese tutte era un pezzo con le texture separate c'erano dai 20 ai 30 materiali ero lì ero con cinque con cinque colleghi qui presenti c'era Gianfranco c'era Michelle e quindi l'ho subito l'ha fatto non ho fatto cartelle il pezzo era unico era il GLB che ho messo con RayDrive e poi l'ho piazzato lì e l'ho visto colorato non ci ho pensato mai l'ho fatto per disperazione perché con l'FBX che non andava e mi è andato subito no il formato GLB è uno dei più tra l'altro è anche open source perché l'FBX che comunque finora è molto diffuso in realtà è ancora proprietario come formato invece il GLB adesso si sta affermando proprio perché è un linguaggio franco cioè un linguaggio universale mentre parlate faccio vedere cosa si può fare con iClone ok riuscite a vedere sì ok perfetto e questo è una cosa che ha fatto una mia alunna prendendo ora un quadro l'ho fatto l'ho realizzato come realtà capito sono tutte cose che si possono fare con iClone e non con e quindi portare in Bercadia e non in offensiva e mi conoscete soprattutto per aver ucciso Jean Paul Marat vabbè di questo parleremo dopo ora parliamo un po' di me alla mia figura capite se uno vuole fare qualcosa di un po' più diciamo complicato l'unico programma almeno fra quelli che costano di meno è questo io non so se sentite anche l'audio sì sì io sento l'audio si si sente è perfetto si la cosa bella è che allora io non ho l'iPhone però si possono anche fare i movimenti facciali reali quindi se una persona con la videocamera di iPhone lo collega qui e quindi anche la faccia prende una vita una vita sua